Buongiorno a tutti, siamo a raccontarvi una nuova vergogna dal nostro punto di vista che la giunta regionale toscana sta portando avanti senza nessun scrupolo. Hanno pensato a una proposta di modifica di legge a livello regionale per evitare di confrontarsi con i cittadini, stanno cercando di fare il possibile per evitare il referendum, ignorando 55 mila cittadini che hanno chiesto a gran voce di abolire una legge che consiste in un rischio reale di smantellamento del servizio sanitario pubblico, con tagli al personale, senza risolvere i problemi delle liste d'attesa, senza risolvere i problemi dei ticket, senza risolvere i problemi di un ospedale che ha sempre meno posti letto ed è meno capace di assistere i cittadini. Siamo qui ad opporsi a questo meccanismo perverso fatto di dubbia onestà intellettuale perché sembra tutto studiato apposta proprio per evitare questo referendum.